Ogni anno a scuola elementare o a scuola media esce sempre la domanda Ma Gesù è Dio? Dio è Gesù, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo Il mistero della Trinità si chiama appunto mistero Dobbiamo anche affidarci, dobbiamo affidarci della rivelazione e pensare che Dio si è manifestato come Padre, come Figlio e come questo legame, come questo Spirito Santo che ancora oggi è presente E il Vangelo di oggi dopo tutto ci ritorna buono per spiegare, per ricordare che se avete conosciuto me, come ha detto Gesù, conoscerete anche il Padre E quindi chi ha incontrato Gesù nella propria vita anche oggi incontra Dio Chi incontra il prossimo, chi gli apre il cuore, apre la porta verso il Paradiso, verso il Regno dei Cieli Buona giornata Grazie 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 Grazie